In un mondo sempre più rapido, sempre più veloce, sempre più connesso a noi con cazzo 30 all'ora, lo cazzo è 30 all'ora? Oggi 30 all'ora li fa un potista medio con l'artrosi, ma non rompete il cazzo questi 30 all'ora Al governo pensate alle cose serie Cioè avevamo ancora le limiti di quando giravano le 126 bisse, la Seat Fura, la 500, no quella di oggi, quella vera, quella bronchite A 130 all'ora, le macchine oggi guidano da sole, accelerano da sole, frenano da sole, fanno tutto da sole Tu oggi in macchina ci stai per dormire, ma a 30 all'ora Ma non cagate il cazzo, ma non rompete il cazzo a 30 all'ora Guardate la Germania con le autobahn, no? Dove le macchine sfrecciano a tutto quello che vanno Più vanno e più vanno forti, hanno meno incidenti di quelli che avevamo noi in Italia a 90 km orari Ma poi mette un limite a 30 all'ora Ma Luigi nella multa te la fa currerno, te busta sul vetro Ma che cazzo dite? Allora se è per questo, visto che in giro c'è Fleximan che vi taglia lato Velox Da oggi avrete un nuovo supereroe Vi presento Pianoman L'orecchio con la banda Che fa piano Te metti in cucina A 30 all'ora E se mi sono Ma che hai suonato Canta pure Grazie Grazie Grazie